La cornice è quella della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. È qui che Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ha fatto due importanti annunci inerenti all'A14, soprattutto nel tratto sud. Nel breve periodo i cantieri, che rendono impossibile percorrere l'autostrada, chiuderanno battenti, esattamente il 9 di luglio. Si parla quindi della terza corsia a questo punto, il 9 chiuderanno i cantieri. Ci sono due fasi. La prima fase è quella della sospensione dei lavori e della riapertura dei cantieri di adeguamento della strada attuale. E poi c'è quella della realizzazione della terza corsia e delle soluzioni per il futuro. Ora cerchiamo di affrontare bene questa fase perché la sospensione dei lavori e la soluzione anche di come procedere alla riapertura dei cantieri dei lavori è una fase fondamentale per dare certezze e sicurezza e per creare il minore impatto possibile sul nostro territorio regionale. Dall'altra parte la progettazione delle opere future e delle possibilità di intervento per ridare a tutta la dorsale adriatica un'autostrada che sia funzionale e competitiva con i tempi che noi viviamo. Acquaroli parla di sei incontri che si sono tenuti e di uno cruciale che servirà per gettare le basi di futuri lavori o interventi per modificare il tracciato dell'A14 nel Piceno. Abbiamo iniziato da mesi ormai un'interlocuzione con il governo, proprio in questo momento stavamo ricordando con i nostri collaboratori di giunta e con i tecnici della regione che erano stati addirittura sei incontri fatti con la società autostrade per cercare una soluzione e il fatto che si arrivi a una sospensione dei lavori e a una concertazione sulla prosecuzione nel futuro dei lavori che dovranno vedere la riqualificazione e il rialineamento alle normative vicenti di questo tratto autostradale è un elemento sicuramente di disponibilità che noi raccogliamo con favore da parte della società autostrade e da parte del Ministero. Ci sarà un tavolo che partirà nei prossimi giorni dove cercheremo di trovare una soluzione che sia il meno impattante possibile sul territorio e sulle popolazioni interessate.